Ciao ragazzi, io sono RetroGame e oggi ti do il benvenuto in questo nuovo videovlog. Nel video di oggi ti andrò a mostrare una nuova cosa che non ho mai portato sul canale. Stiamo parlando di un posto abbandonato da anni ormai. Durante la visione di questo video ti andrò a spiegare brevemente di cosa facevano e di cos'era questo posto. Vorrei aprire una piccola parentesi. Se questo video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace, di condividerlo sui tuoi social network e di attivare la campanellina e se ti fa piacere di iscriverti al canale. Inoltre, qui sotto in descrizione, puoi trovare il link di Twitch dove faccio le live dalle 21 alle 23. I giorni saranno lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. E inoltre puoi trovare il link per poter aiutare a contribuire il canale se ti fa piacere. Detto questo ti lascio al videovlog e buona visione. Ed eccomi arrivato ragazzi. Dunque, quello che state vedendo dietro di me, alle mie spalle, è un posto abbandonato da anni ormai. Tra un po', brevemente, vi spiegherò che cos'era questo posto e di quello che facevano. Mi scuso ragazzi per l'affanno, ma comunque sia, sono a piedi. E due passi da casa, quindi non è nemmeno tanto lontano, infatti ci sono arrivato veramente subito. Sono le due di pomeriggio. Tra un po', ragazzi, entreremo qua. Vi faccio vedere per adesso che ci sta un cancello. E' chiuso, ma ci sta una parte per poterci entrare. Devo stare attento perché sennò va a finire che scivano. Adesso non vorrei venire criticato all'interno dei commenti di questo videovlog. Per il semplice fatto che comunque sia, è un posto, come detto prima, abbandonato da anni ormai. Ma comunque sia, ci lavoravano in questo posto. Come detto, tra un po', ragazzi, vi spiegherò brevemente di quello che si faceva qua dentro e di quello che non facevano. Prima di iniziare, ovviamente, mi scuso se sentirete l'audio un po' leggermente pessimo. Ma comunque sia, ragazzi, sono all'aperto, sono a piedi, il tempo è buono, non fa nemmeno tanto freddo e ovviamente, ragazzi, ci sta un po' di vento, eccetera, eccetera. Quindi non mi posso inventare chissà che cosa per poter andare ad ottimizzare l'audio per questo video. Adesso vi giro la videocamera così potete vedere leggermente quello che è il posto, almeno per adesso da fuori. Poi dopo, ragazzi, come detto, ve lo faccio vedere anche da dentro. Dunque, allora, come potete ben notare, ragazzi, vedete? Questo qui è il posto che andremo a visitare quest'oggi. Spero, ragazzi, che si veda anche abbastanza bene. Spero di sì, ragazzi, e spero di sì. Vi cerco di zoomare leggermente un po' più in là. Quello lì che state vedendo adesso è l'ospedale. Magari se inizierà veramente a fare benissimo il tempo, ci andremo. Ora, ragazzi, cerchiamo quantomeno di entrare all'interno di questo posto e così vi faccio vedere. Ci sta un'entrata di qua. Ora, sperando che non faccio danni, perché se faccio danni e mi capovolgo mi faccio del male da solo. Qua ci sta ancora un altro po' di neve, ma va bene. Ed eccoci qua, ragazzi, arrivati all'interno. Ed ecco qua. Dunque, come potete ben notare, ci stanno un po' di robe buttate qua all'interno. E questo qua, ragazzi, è il posto che vi volevo far vedere, che non ho mai portato sul canale di YouTube. Vedete? In pratica, ragazzi, è veramente molto, molto abbandonato questo posto. Guardate un po'. Qui si lavorava, come vi ho detto prima. E questo qua, ragazzi, è tutto quanto il posto. Dunque, come detto, ragazzi, vi andrò a spiegare brevemente di quello che facevano qui dentro. Come detto all'inizio, è abbandonato. Ma è abbandonato per il semplice fatto che questo posto, prima, un bel po' di anni fa, era uno scasso. Quindi era gestito da una famiglia molto, molto numerosa. Si sono messi in corrispondenza con un altro scasso. Quindi questo scasso qui adesso, dov'è che mi trovo io, si è trasferito ad un'altra parte. Non troppo lontana, ma comunque sia sempre all'interno del mio paese. Questo perché? Perché innanzitutto, qui, in questo posto, purtroppo, era uno abbastanza piccolo e due non era a norma. Mentre dove si trova adesso, lì si trova molto più che a norma e anche un posto ancora più grande. Questo posto, diciamo che era trattato non proprio benissimo, perché comunque sia da una parte c'erano attrezzi, da un'altra parte c'erano camion, da un'altra parte, insomma, c'erano un mucchio di schifezze. Però adesso, dov'è che si trova adesso, diciamo che ce l'ha ancora più pulito. Vi andrò a mostrare brevemente anche, dov'è che erano collocati tutti quanti i, tra virgolette, capannuni, dove tenevano la roba sia da vendere, perché comunque sia quando arrivava una macchina, loro la smontavano del tutto, facendo rimanere soltanto la scocca dell'auto. Quindi la scocca dell'auto, che cosa facevano? La prendevano e la mettevano in un container molto grande. E ovviamente poi dopo alla fine veniva un camion, veniva a caricare e loro ovviamente prendevano anche i soldi. Quindi perciò con il carico che venivano qui a caricare, si facevano anche pagare come giusto che sia. E quindi diciamo che avevano una sorta di stoccaggio veramente molto molto grande, dove avevano considerato tutti quanti i materiali delle macchine. Già ad esempio uno sportello, un parabrezza, un lunotto posteriore, un finestrino, una gomma, un cerchione, dei finestrini laterali, ovvero scusate i finestrini laterali anche, degli specchietti, retrovisori, insomma degli stop, dei fari, sportelli, cofano anteriore e cofano posteriore. Insomma ragazzi si erano diciamo tra virgolette messi da parte veramente un bel po' di pezzi, che comunque sia quando venivi ad acquistare pezzi qui, li facevano pagare veramente tantissimo. Quindi diciamo che se ad esempio magari ti serviva qualche cosa e dovevi prenderti qualche cosa che ti serviva veramente tantissimo, ovviamente questi pezzi se li facevano pagare veramente tantissimo. E quindi diciamo che non era poi così tanto una cosa normale per una persona che non si poteva acquistare ad esempio o uno specchietto o un vetro o un parabrezza e così via. Però comunque sia ragazzi tenevano tutto quanto sistemato però era soltanto un po' sparso in giro. Dunque adesso vi rigiro di nuovo la videocamera così potete vedere più o meno, vi indico più o meno le parti perché me le ricordo benissimamente perché io comunque sia quando venivo, ovvero quando si lavorava qua perché lavoravano veramente tantissimo dal lunedì al sabato e il sabato mattina io uscivo di casa e me ne venivo qua. Me ne venivo qua per il semplice fatto che mi piaceva come posto, mi piaceva proprio il macchinario che andavano ad usare. Adesso vi vado anche ad elencare ovviamente i macchinari che loro usavano, quindi avevano camion con gru, camion normale, camion ancora più grande per trasportare il cassone, il container sopra, il ragno per poter prendere la roba e avevano anche un mucchio di cose quindi un po' sparse di qua e un po' di là, avevano anche il camion, quello là per il soccorso stradale eccetera eccetera ragazzi avevano veramente una marea di attrezzi, di macchinari eccetera eccetera. Vi giro la videocamera così vi vado ad elencare più o meno dov'è che erano predisposti i loro diciamo tra virgolette i capannoni barra magazzini dove avevano custodito la loro roba eccetera. Su questo lato qui ci sta l'entrata, questa qui che state vedendo era tutta quanta la strada che porta fino alla sotto e poi ragazzi ci stava anche la parte posteriormente, tra un po' ragazzi ci andiamo. Su questo lato qui davanti a voi ci stavano, su quel lato lì ci stava una mega parete quindi adesso è stata buttata giù però prima su questo lato qui dov'è questo mega albero perché comunque sia a confine ci sta anche una campagna ci stava un mega muro quindi che iniziava dal pilastro del cancello ed arrivava fino là su quella diciamo tra virgolette costa. Sempre qui su questo lato qui sul lato sinistro quindi alla mia sinistra ci stavano un po' di diciamo sporcizia su un lato poi avevano un piccolo capanno dove si andavano a riposare insomma a mangiare qualche cosa e bere qualche cosa mentre un po' più avanti avevano un piccolo garacetto dove avevano custodito un compressore ad aria insomma un po' di attrezzature. Ad un altro lato invece ci stava un piccolo capannone dove loro andavano a smontare i motori delle macchine quando andavano a smontare i motori delle macchine che cosa prendevano? Prendevano alberi a camme, la punteria, i pistoni, le bielle insomma smontavano completamente tutto da vicino al monoblocco del motore e quindi il monoblocco stesso ovviamente veniva sempre caricato in un altro container della ghisa o alluminio insomma facevano la divisione di alluminio, ferro, ghisa, vetro, acciaio, plastica, gomma insomma ragazzi una marea di cose qui davanti qui dove ci sono questi alberi secchi purtroppo ormai ci stava la roulotte dove loro ovviamente tenevano diciamo come una specie quasi di ufficio ecco diciamo quasi una specie di ufficio e quindi lì potevano prendere lavori insomma ricevere chiamate perché ci stava anche il telefono quindi si erano collegati anche con il telefono e quant'altro mentre se andiamo leggermente un po' più in avanti su questo lato dietro qui non so ragazzi se riesco ancora a farvelo notare ma io credo di sì ragazzi e credo di sì non lo so se riesco ecco vedete ci stanno ancora non so se riuscite a notarlo un po' di vetri delle auto ancora quindi qua venivano smontate le auto perché le prendevano da sopra il camion le posizionavano qui dov'è questo strato di cemento e qui loro lavoravano quindi lavoravano veramente tantissimo mentre su questo lato qui dove ci sta quel secchio bianco lì ci stava la cisterna per potersi lavare le mani con la pasta lavamani mentre lì su quella pedana che state vedendo lì davanti a me e quindi quella quella pedana là davanti ecco ve la zoom un attimino almeno così riuscite anche a vederla quella pedana là davanti là invece ci stava un'altra cosa ovvero la cisterna dell'acqua per poter lavare le mani mentre su questo altro lato qui invece ci stava un'ampia zona dove avevano custodito tutti quanti i loro materiali delle auto come detto prima ho specchietti, specchietti retrovisori, specchietti normali, finestrini, lunotti posteriore delle auto parabrezza, paraurti, cofani, gomme, cerchioni e chi più ne ha più ne metta ovviamente anche gli interni delle auto i sedili, gli sterzi, pezzi di ricambio, alternatori insomma ragazzi una marea di cose insomma ecco si è passata anche la moto poi su questo lato qui invece qui davanti a me avevano lo stoccaggio dei tubi in ferro quando veniva qualche persona a chiedere di una tubazione in ferro lui già aveva tutto quanto predisposto che poteva andare a dare al suo cliente mentre qui ragazzi dove vedete questo spazio fatto in cemento qui invece c'erano i container dove venivano custoditi tutti quanti i pezzi delle auto quindi la scocca dell'auto insomma una marea di cose ragazzi quindi qui ci mettevano tutto quello che veniva smontato da un'auto ma non soltanto un'auto piace fare gli scemi purtroppo e dicevo ragazzi quindi non venivano smontate scusate soltanto auto ma venivano smontati anche ad esempio trattori, autobus, camion interi, camion interi i container interi, i rimorchi interi quindi si conservavano anche gli assiali delle macchine insomma quindi tutta quanta la parte di sotto tutti quanti gli interni, gli esterni, i fari, i stop insomma ragazzi avevano una cosa fatta per bene quindi ogni cosa al suo posto però purtroppo ragazzi si sono dovuti trasferire per il semplice ma questo qua che ha fatto? Ha fatto già tutto quanto il giro? ah no è soltanto uno con il motocross dicevo ragazzi comunque sia avevano tutto quanto bello che è custodito sistemato al 100% purtroppo come detto ragazzi ha dovuto chiudere per il semplice fatto che comunque sia in primis era un posto abbastanza piccolo quindi per il lavoro che fanno loro il posto non era adatto quindi abbastanza piccolo non entrava tutta quanta la roba perché come famiglia era abbastanza grande abbastanza numerosa e lavoravano tutti quanti insieme quindi tra famiglie e famiglie lavoravano tutti quanti insieme e una volta che hanno deciso di poter cambiare posto con un altro posto ancora più grande che si trova ad un'altra parte perché è veramente ancora più grande di qua hanno fatto una cosa fatta veramente a mestiere quindi si sono creati il capannone si sono creati anche la struttura intorno muratura eccetera eccetera e quindi là lo spazio è ancora più grande per contenere ancora di più container per poter andare a metterci ancora più roba all'interno e niente ragazzi questo è quanto quindi qui ha chiuso sia mo dovevi passare grazie quindi qui ha chiuso uno per la grandezza del posto e due perché comunque sia ragazzi non era a norma ed era stato anche chiuso se non vado errato mi sa anche per mancanza di igiene e una cosa del genere ragazzi non mi ricordo perché era stato chiuso dai carabinieri però comunque sia era stato chiuso proprio per questa cosa qua perché comunque sia non hanno mai avuto una cosa ordinata perché comunque sia intorno intorno a tutte quante le mura erano veramente sporcizia ovunque diciamo che era soltanto libero il passaggio dove potevano entrare con i loro macchinari e anche con gli altri camion che venivano a caricare altra roba niente ragazzi questo era il nuovo video vlog che vi volevo portare sul canale ad inizio video vi ho detto una piccolissima cosa riguardante questo posto e vi ho detto anche un'altra cosa niente ragazzi io concludo qui questo video vlog spero innanzitutto ragazzi che vi sia piaciuto era da un po' di tempo che non ve ne portavo uno perché comunque sia di farvi vedere questo posto abbandonato ci avevo pensato veramente da una maria di tempo soltanto ragazzi che non ho mai avuto il problema mi scuso se avete sentito motorini treno passare auto passare insomma un sacco di casino perché comunque sia siamo all'aperto è normale che si sentono tutti quanti questi rumori e mi scuso anche per l'audio ragazzi ci sta vento il tempo è buono si può uscire a piedi ci sta soltanto un po' leggermente di vento e quant'altro niente ragazzi concludo qui questo video vlog spero innanzitutto che vi sia piaciuto e se è così vi invito a lasciare un like commentare ed iscrivervi attivare la campanellina a condividere questo video se vi fa piacere e noi ci rivedremo in un prossimo video ciao